Penne la spada di Damocle sul conto consuntivo del Consiglio Comunale. Se entro la fine del mese non dovesse esitarlo favorevolmente, il Consiglio sarà sciolto. I consiglieri non lo hanno votato nelle due sedute del 30 dicembre scorso e ora saranno chiamati a deliberare l'ultima volta. Prima del voto però si dovrà registrare qualcosa nella maggioranza che ha fatto notare scollamenti, tali da esigere un chiarimento prima di andare avanti. Forse era un fuoco che bruciava sotto la cenere da troppo tempo e adesso è venuto fuori. Ne è consapevole il consigliere indipendente Domenico Feminò che ha incalzato ancora il sindaco Domenico Munafò con un'interrogazione dal titolo emblematico valutazione della crisi politica e richiesta di azzeramento dell'esecutivo. Per Feminò era solo questione di tempo, scelte sbagliate portano ad epiloghi di gran lunga peggiori con il sindaco che ha perso la fiducia dei suoi consiglieri. Feminò ha ricordato inoltre la lunga dichiarazione letta in aula all'inizio della seduta del 30 dicembre dal presidente del Consiglio Emanuela Ferrara attraverso la quale sono state evidenziate alcune criticità anche in riferimento a progetti importanti per il territorio. Per Feminò è necessario adesso un momento di riflessione per approfondire e correggere le cause che hanno determinato questa impasse politica con un preventivo azzeramento dell'esecutivo e un confronto aperto con chi ha contribuito alla vittoria elettorale dell'attuale amministrazione. Feminò ha incassato anche il voto favorevole della sua mozione per ribadire all'esecutivo che il trasporto scolastico dovrà essere gratuito. Questo aveva detto a più riprese il consigliere annunciando battaglia se l'amministrazione guidata da Domenico Munafo avesse deliberato di far pagare il servizio scuolabus per l'anno scolastico 2019-2020 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Ora votata la mozione è passata la sua linea e dunque un preciso indirizzo per l'esecutivo.